Sistema intelligente Semplicemente si pone la lastra sul dispositivo Scan&Go per memorizzare elettronicamente sulla lastra tutte le informazioni necessarie Le Smart Plate sono facili da usare come la pellicola e comode per i pazienti Le lastre possono essere scansionate in qualsiasi ordine e momento Le protezioni monouso proteggono del tutto la lastra e il paziente Poi, anche in soli 5 secondi, ecco delle immagini intraorali di alta qualità sul display dell'apparecchiatura per un feedback istantaneo Le immagini sono inviate direttamente al computer e al file appropriato senza dover toccare nemmeno un pulsante Non c'è più alcuno scambio, l'intero processo è più rapido ed efficiente Grazie alla tecnologia Scan&Go, utenti multipli possono usare il CS7600 per pazienti multipli, simultaneamente, sempre Diversamente da altri sistemi, il CS7600 è sempre disponibile Non occorre riservare o bloccare l'apparecchiatura per altri Si eliminano tutti i colli di bottiglia Il CS7600 supporta anche la scansione a lotti Si possono mischiare le lastre tra pazienti e operatori Le immagini vanno sempre alla destinazione giusta Produrre lo status può essere tedioso ma con la tecnologia Scan&Go non occorre più seguire uno specifico protocollo o ricordare quale lastra corrisponda a quale dente Le lastre possono essere scansionate in qualsiasi ordine Poi, le immagini sono inviate e montate nella posizione giusta sul computer senza la necessità di alcun intervento dell'utente Lo fa tutto il sistema, automaticamente Con il CS7600 si ottiene un'eccellente qualità in pochi secondi fino a 17 coppie di linee per millimetro di risoluzione reale Si può visualizzare la prima immagine anche in soli 5 secondi e lo status richiede solo pochi minuti per scansione e visualizzazione L'ampia latitudine d'esposizione elimina le sovra o sottoesposizioni e tre modi di scansione assicurano sempre l'immagine desiderata E si possono migliorare le immagini con i filtri anatomici con un solo clic Si ottiene sicuramente l'immagine che occorre nel formato desiderato Pensate per la praticità Le lastre flessibili Smart Plate permettono un flusso di lavoro semplice, tradizionale Il monitor a colori integrato dà istruzioni chiare e facili da seguire e rileva eventuali inserimenti errati delle lastre E grazie alla memoria integrata dell'apparecchiatura si può continuare con la scansione delle lastre anche se la scheda del paziente non è aperta il computer è spento o la rete non è disponibile È così intelligente Il CS7600 opera in tutti gli studi utilizzabile presso il riunito o condiviso tra più ambienti operativi in un locale centrale quindi è una soluzione versatile ed economicamente conveniente per studi piccoli e grandi Le dimensioni compatte ne permettono l'installazione migliore con facilità Installabile facilmente, lavora nelle normali condizioni di illuminazione Utilizzato come programma autonomo o integrato nel sistema di gestione dello studio questo software di imaging funziona come pannello di controllo per tutti i nostri sistemi di imaging digitale Con i suoi potenti strumenti di elaborazione di immagine e comunicazione facilita una semplice visualizzazione e condivisione delle immagini e migliora la comunicazione con i pazienti Sono disponibili anche diversi accessori inclusi il dispositivo Scan & Go un pratico contenitore per le lastre lastre Smart Plate addizionali in 5 differenti formati e protezioni monouso che proteggono lastre e paziente Complessivamente, il primo sistema intelligente al mondo di radiografia digitale sull'astra